Ciao amici value investor, un vero investitore non si ferma ad analizzare e seguire solo l'azienda in cui investe ma anche la concorrenza del resto siamo nel capitalismo e nel capitalismo se stai mangiando una bella torta gli altri cercheranno sicuramente di portartela via quindi è importante capire se ci stanno riuscendo e ieri sono usciti i dati finanziari per il 2023 di quello che è il principale competitor di Evolution se parliamo di aziende quotate in borsa Evolution è l'azienda leader di giochi online di gambling, un'azienda di cui abbiamo parlato già in altri video sul canale e questo competitor si chiama Playtech e con la sua divisione B2B è il principale competitor di Evolution parlo di B2B perché Playtech offre i suoi giochi anche direttamente al cliente finale, al consumatore quindi ha anche una divisione B2C mentre Evolution fa solo B2B e quindi nel video di oggi vedremo come è andato il B2B di Playtech nel fiscal year 2023 e se vi siete persi il video sul fiscal year 2023 di Evolution trovate il link in descrizione Andiamo a vedere subito quello che è il dato più importante le revenue, le vendite perché è il dato più importante? perché l'obiettivo dichiarato del management di Evolution è quello di incrementare costantemente le distanze con i competitor cioè di aumentare costantemente la sua market share e rafforzare la sua leadership sul mercato quindi Evolution deve crescere a livello di revenue più del mercato e preferibilmente anche più dei principali competitor ed Evolution è cresciuta più velocemente del mercato nel 2023 nel casino online con un più 23.5% delle vendite contro il mercato che è cresciuto complessivamente del 15% ma Evolution è cresciuta molto di più anche del suo principale competitor Playtech che ha fatto solo più 8% nel 2023 rispetto al 2022 ma è importante anche la qualità della crescita perché una cosa è crescere, cioè rubare le quote di mercato ai concorrenti calandosi le braghe cioè abbassando i prezzi, facendo prezzi molto più bassi della concorrenza e quindi lavorando con margini risicati e un'altra cosa è avere una crescita di qualità cioè crescere più dei concorrenti ma con margini simili o anche più alti cioè farsi scegliere dai clienti non solo per il prezzo ma per la qualità dei giochi o per una più vasta gamma di giochi che si può offrire e anche in questo caso Evolution sembra essere messa bene perché Playtech nel 2023 ha visto l'adjusted EBITDA crescere del 14% contro il più 26% di Evolution e con un EBITDA margine di Playtech del 27% contro il 70% di Evolution quindi una grande differenza inoltre il free cash flow margine di Playtech è stato del 10% mentre quello di Evolution quasi del 60% quindi parliamo di una differenza di profittabilità abissale e quindi è chiaro che Evolution sta crescendo più del mercato non perché sta praticando prezzi super aggressivi ma perché ha un vantaggio competitivo inoltre Playtech è anche più rischiosa di Evolution a livello di concentrazione dei clienti i 5 clienti più grossi di Playtech fanno il 51% del fatturato per Evolution siamo al 41% che comunque è una concentrazione alta anche per Evolution infatti nell'ultimo video su questa azienda lo abbiamo inserito tra i rischi l'elevata concentrazione della clientela però comunque è meglio di Playtech per quanto riguarda il live casino cioè i giochi dove si gioca in diretta streaming e c'è un presentatore o un croupier a condurre i giochi Playtech ha chiuso il 2023 con oltre 300 tavoli da gioco Evolution con oltre 1600 e l'anno scorso ne aveva 1300 quindi in un solo anno è riuscito ad aprire il numero totale di tavoli posseduti da Playtech questo per darvi un'idea della differenza di scala tra Evolution e concorrenti e quindi il gap è ancora molto elevato ed essendo il numero di tavoli da gioco fondamentale per generare le economie di scala necessarie per essere profittevoli questo spiega in parte anche la marginalità molto più elevata di Evolution rispetto a Playtech e al mercato quindi Evolution sembra stia rafforzando sempre di più la sua posizione sul mercato ma detto questo non bisogna sottovalutare Playtech perché nel live casino sta andando bene come crescita e sta spingendo molto forte anche in Nord America dove sta aprendo nuovi studi di registrazione e sta stringendo partnership strategiche con aziende locali e poi c'è da dire un'altra cosa l'80% delle revenue di Playtech viene dai mercati regolamentati mentre per Evolution parliamo del 40% e questo aumenta il rischio per Evolution rispetto a Playtech non perché nei mercati non regolamentati il gioco d'azzardo online sia illegale non lo dichiarerebbero nemmeno nei report fosse così ma perché non essendoci un quadro normativo preciso e stabile a regolare questo business nel momento in cui decideranno di farlo potrebbero esserci delle restrizioni per il settore e inoltre in un paese non regolamentato Evolution non può investirci come vorrebbe e potrebbe non può investirci più di tanto non può aprire facilmente sedi e studi di registrazione perché se le cose andassero male in seguito a qualche regolamentazione sarebbe un bel problema in termini di soldi spesi persi comunque Evolution sta correndo più veloce della concorrenza ed è impressionante soprattutto il gap nei margini con i principali competitor e questo dimostra quanto alla fine le economie di scala le dimensioni dell'azienda siano la cosa principale ed Evolution è di gran lunga più grande della concorrenza e questo vantaggio competitivo delle dimensioni si riflette anche nella quantità dei giochi che possono offrire questi sono solo alcuni nuovi titoli che usciranno a breve nel Q2 e nel Q3 questa azienda che vedete, Edge UG è un'azienda di Evolution e questo dovrebbe rafforzare ulteriormente il potere contrattuale e negoziale di Evolution con i clienti business perché è l'azienda che riesce ad offrire la più vasta gamma di giochi e il numero di giochi non fa altro che aumentare velocemente e come potete vedere anche il numero di annunci di lavoro per Evolution è molto elevato proprio perché sta cercando di aumentare sempre di più la sua scala, le sue dimensioni quindi sta cercando di crescere organicamente ma non solo un altro modo per crescere e rafforzare la sua leadership per Evolution sono le acquisizioni infatti è di pochi giorni fa la notizia dell'acquisizione di No Limit City per 340 milioni di euro si dice che sia la più grande acquisizione del settore iGaming o comunque una delle più grosse ma 340 milioni non sono una cifra enorme per Evolution che ha chiuso il 2023 con un miliardo di euro di utile netto e No Limit City è una software house maltese specializzata nella realizzazione di giochi online di gambling ed è diventata celebre nel corso degli anni per aver creato alcuni dei giochi di slot più accattivanti innovativi e pluripremiati in circolazione e adesso con l'acquisizione verranno aggiunti al catalogo di Evolution questo era l'aggiornamento se vi interessa questa azienda sappiate che la seguiamo in modo approfondito nel gruppo Discord del circolo dei Value Investors a cui se volete partecipare vi basterà supportare il canale con una piccola donazione su Patreon vi lascio il link in descrizione e fatemi sapere nei commenti cosa ne pensate di questa azienda un like al video se vi è piaciuto e ci vediamo alla prossima ciao da Davide